Non ce l'ha fatta il 44enne che aveva riportato gravi ferite a seguito dell'incidente avvenuto ieri sera, poco prima delle 21, lungo la Statale 11 ad Altavilla Vicentina. Dopo essere stato trasferito in rianimazione al San Bortolo e deceduto in mattinata. L'incidente aveva coinvolto due auto nello scontro e distrisciò anche una terza vettura. L'impatto violento aveva causato anche dei detriti presenti sulla carreggiata per oltre 100 metri. La squadra dei vigili del fuoco era intervenuta mettendo in sicurezza i mezzi ed estraendo da una delle auto l'uomo rimasto incastrato nell'abitacolo che era poi stato rianimato sul posto del personale sanitario del suo e trasferito in ambulanza in codice rosso in ospedale. Estratta anche la copia di cingalesi a bordo del secondo mezzo, anche loro rimasti bloccati all'interno dell'auto, entrambi assistiti dal personale sanitario e poi trasferiti in pronto soccorso. Coinvolta di striscio una terza vettura, il leso, il conducente. Cause dell'incidente al vaglio dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi durante le operazioni di soccorso. Il traffico è stato deviato su una viabilità alternativa. Le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo si sono concluse ieri in tarda serata.